Benvenuti in questo nuovo video di Roblox, questo oggi è una mappa un po' particolare, devo essere sincero L'obiettivo è prendere un'auto e riuscire a raggiungere tutta la fine della mappa C'è tipo un super mega rampone incredibile, pieno di ostacoli, si schiata tutto il tempo Mappa particolare, molto strana, ma da quel che ho visto molto divertente Allora, partiamo perché è più facile da giocare che da spiegare secondo me, vieni com'è Immagino Allora, premi sopra di te il tasto spawn Lo vedo E ti compare un'auto arrugginita da poter far spawnare Tutte le altre costano che non abbiamo ancora soldini Ok, eccola qui Certo che è atterrare sulla mia Steph, non era previsto, scusami Siamo davvero Io ho premuto spawn, vai avanti Ferre, io sto andando avanti, mi hai bloccato il veicolo Allora, aspetta, aspetta, aspetta Facciamo così e cerchiamo di ridolvere Bell'inizio, Ferre Allora, vai dritta, quel che succede, succede Aiuto Cosa sto giocando, ragazzi? Ho schiantato Hai schiantato, sì Ho schiantato Di nuovo, no Sto per cadere giù dalla rampa, non è vero Lo tengo perché mi sono allenato un sacco di anni su GTA E quindi oggi riesco a fare una bellissima rampa Steph, aiuto Ho fatto il cambio veicolo, sto tornando È ingestibile Sono esploso Come hai fatto ad esplosere? Mi sa che c'è della tenete in giro, sono morto No, sono caduto in acqua Sono tornato in vita Eccomi C'è tipo un laghetto e se ci cadi dentro sei schiattato Ferre, ma è tutto così, è un casino Tu scendi, fai sto rampone, succede tutto Vuoi salire con me, Ferre? Cos'era, scusami? Non lo so, il primo tasto che abbiamo con lo sit Ok Ti fa svenire, cioè non chiedermi che cos'è Vai, 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 sali, sali Posso salire con te? Vai Ecco uno che ti stavo dicendo Andiamo Ok Sium Guarda che bravo Ok Ma quindi stiamo facendo le rampe su Roblox Stiamo facendo i ramponi su Roblox Perché questa non è neanche una rampa, è un rampone Aiuto È quello di GTA, quindi Aiuto Ci stiamo smontando, Ferre No Pocchio, vedi il laghetto Ecco Anche lui, anche lui Stessa fine via Ma questa è la cosa più difficile da superare nella prima parte Eh sì È un casino Allora, ce li proviamo Però abbiamo fatto un sacco di soldi Eh sì, perché così piano piano ci compiamo le super auto, capisci? Eh sì Allora, vuoi salire da me o da sola? Sì, no, dai, facciami insieme Ok Andiamo Almeno un secondo poi Me ne vado anche da sola Forza, forza, forza Qua va bene anche così Bene Manteniamo È difficilissimo mantenere E lo so L'auto che va dritta Ma anche perché ragazzi, voi forse non ve ne rendete conto Ma vanda tantissimo Quindi è che solo star dritti Aspetta Ecco Oh Ok Dai Ok, no, no, puoi scendere, puoi scendere Ok Mi sono incastrato Anche io Non posso uscire dall'auto, sono morta Aiuto Aspetta Forza ce l'ho fatta Ok 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 Aspetta Aspetta, ti tolgo veicolo Eccomi Allora, spostati un attimo Opla Ok, salta su Ah, ma si può continuare più a me Sì, 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 sì L'importante è sopravvivere È un cheat incredibile No, 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 è fatta apposta Oh, guarda, guarda che discesone Sto facendo un botto di soldi pure io Hai visto? Quindi, comunque, ne ho più di te Non so come Che poi, hai pensato l'ambientazione che cosa ricorda? Gas Station Bravissima Appena ho visto la mappa All'inizio, quando siamo entrati, ho detto Non dirmi che è una nuova versione di Gas Station Però in realtà no Spero è bella Sì, no, è bella Oddio Qua ci spacchiamo Sì Qua ci spacchiamo Oddio, invece no Siamo vivi Buongiorno C'è una cittadina? No, non mi sembra Opla È una rompa questa Prendi questa, prendi questa, sì Insomma Era tristista Abbastanza triste Abbastanza triste Allora, i guarani sono altissimi in questo momento Ma pensiamo No, stas Siamo salvi Allora, si è bloccata l'auto Ma siamo salvi Ok, scendi Quindi possiamo romperla Aspetta che devo spawnare un'altra Salta su Ok, dietro Ci siamo incastrati Oh Ok Piano Calmi Che quasi vola di sotto Non vogliamo cadere Ma ha una fine questa rampa Non lo so Eccola Eccola a fine Perché siamo esplosi? Perché c'è dei latini di iperterranità Non avevo Vabbè Non ho capito Hai chiesto la fine Alla fine l'hai tenuta Comunque ricordatevi che potete andare nel nostro nuovo shop Che si chiama tpockshop.com Trovate il link in descrizione Oppure potete scriverlo al nostro mio browser C'è la nostra nuova maglietta La nostra nuova felpa E tutti i reversible Che si possono comprare singolarmente Se ve ne manca qualcuno Ne vorreste assolutamente Quindi andate nello shop A comprare tutto quanto Grazie Io volevo dire Andiamo a vedere anche qui cosa c'è da comprare No però lì mi sa che si shoppa tutto con Robux Giusto? Non lo so Ma ci sono anche vestiti Ma che cavolo se ne frega C'è la maglietta per donare qualcosa agli sviluppatori No grazie Sì la prendo Ok Costa 11 dai poverini Allora Ecco l'ho presa I veicoli costano tantissimo Tipo Perché c'è il SUV Ma costa 20.000 Guarda che veicoli Ci sono anche i camion Però aspetta Siamo a 17.000 io E 16.000 tu Eh lo so Però quindi ci attacca riandare con questa Oppure Dai facciamo che esponiamo questa Eh Va Che non è arugginita Ma che bella Hai visto? No era sì Hai visto che bella Forza Sali 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 Andiamo Vai Mi tratti come un taxi Fede Sì è divertente farla insieme Sì ho capito Ma devi stare nel posto di fronte Ti prego Dimmi che in qualche modo Però la posso Aspetta Ce la fai? Per un attimo si è spostata Allora Riesci a spingerla Lei non voglio perdere l'auto nuova appena iniziato No Steph Dobbiamo cambiarla Non c'è soluzione Mi spiace Ma non è che non la ripago? Oh non la ripago La sbocchi per sempre Oh è anche più carina Pensavo fosse one shot Capisci? No Quindi volta devi ricomprare Ok no Sono stati bravi Sono stati bravi E questa cosa mi rende felice Credo che andiamo anche leggermente più veloci Quindi saltare l'ago Se riusciamo a star dritti Dovrebbe essere Ancora più semplice Bellissimo Bellissimo Abbiamo tenuto Continuiamo a fare Steph io comunque ho i 20.000 Quindi possiamo prendere anche il SUV Ok Ok Sì vabbè manco io Ah no io ho 15.000 adesso Vabbè lo compri Eh magari una la compri Una la compri tu Dai così le proviamo tutte Manteniamo Eh certo Guarda che ce n'è una che costa un milione Eh ci arriviamo Guarda quanti soldi facciamo Occhio Occhio a te lo stai dicendo Occhio No Aiuto Aspetta Terremo in piedi Più o meno Sì questo in piedi Più o meno Più o meno Guarda questo Che tricchette Stiamo smontando il veicolo Non ha più il muso Allora stiamo bene Stiamo bene Abbiamo quasi raggiunto il punto di prima Che è il nostro record Fino ad ora Però Devo stare attento alla TNT Perché prima non l'ho notata Allora qua conviene andare Piano Ok Mamma mia Troppo Calmi Calmi Guidiamola bene Gestiamola Ok E adesso ci rimuovo il trampone Eccoci Qua siamo esplosi Fere Sì Che poi dov'è la TNT Io ancora non la vedo Eh la vedi per terra Ok Ah sono mine No quelle secondo me ti bucano le ruote Ah ok Credo Sono tipo puntine Esatto Credo Qua c'è la TNT Sto cercando di vederla Ok per ora è tutto a posto Siamo più avanti di dove siamo mai stati È pieno di cactus Fere Addio Addio Amici Addio Che è successo Non lo so Mi ha fatto Come hai fatto Mi ha fatto Guarda l'auto che va da sola Oddio No sono mine Non sono puntine Fere Te l'ho detto che sono mine Quindi abbiamo sfiorato 100.000 Abbiamo preso una mina prima Te lo dicevo io Steph Eh Aspetta eh Lo posso prendere anch'io se vuoi eh Eh Ho 40.000 però La vuoi la berlina Prendi la berlina Berlina Vabbè sinceramente Forse era meglio il SUV Tieni guida tu Ok Tanto penso che la puoi guidare no Sì Però Andiamo Ok mi stava baggando la visuale Tutto a posto Allora Fere Occhio Ciao facciamo a passare qui Ok vedi questo qua Prima già ti esplode Il barilozzo Ah ok quindi sono i barili e le mine Perfetto E vabbè ma è un casino Ma è pieno un capominato Allora andiamo a piano La scalata Steph Chissà se poi cambia anche la location Se tipo Rimane deserto Oppure se cambia E me lo son chiesto anch'io Me lo son chiesto anch'io So solo che adesso è il contrario della rampa Ci dobbiamo scalare Sì Invece che scendere Mi sta piacendo tantissimo Cioè io adoro queste mappe di Roblox così Sìm Vado a militare Bello Ma buongiorno Non possiamo prendere nulla vero Eh sarebbe bello Ok buongiorno Oh che buchi Eh li ho notati troppo tardi Anch'io Ok ho capito che devono stare molto attenti Da ero in poi Ma Ah dobbiamo passare con la rampa Steph O no 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 Ce l'avevamo incassati su un ramo Però questo è un cambio di bioma Credo E beh Eh sì Occhio Quello esplode sicuro E' un casino Esplode sicuro E' un casino cosmico sta mappa Madonna Ma è sempre peggio Zona di guerra Ma che è sempre peggio Cioè io non lo so perché è così No Steph Sono più grandi queste Che facciamo Io lo so che adesso esplode E mi spavento Beh è ovvio che esplodiamo Come dovrei non esplodere in questa zona Scusami Steph ho un'idea No 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 Te la posso dire Andiamo a piedi E poi rievochiamo il veicolo Ma scusami E' bloccato Infami Vuol dire che la sarà sbagliata Andiamo a piedi No Fere Almeno questo pezzo Fidati di Steph lo prendi Fidati di me Facciamo il pezzo a piedi Fere E compriamo un nuovo veicolo La sappiamo gestire Non la sai gestire Devi avere fiducia in me Non la sai gestire Tranquilla Andrà tutto bene No andrà malissimo Stiamo per esplodere Aiuto Ma dove si passa Cioè non c'è Fisicamente Lo spazio Qua Qui La prende Mannaggia Qua Ok Così Ci passiamo Passaci Tante le barriere Quindi non puoi cadere giù Dai Sì ma ci incastra proprio No no ce la facciamo Vai Corri Steph È un po' meglio Ok Ok La zona peggiore L'abbiamo superata L'auto Non Fere Scendi dall'auto Aiuto Non regge Affioramento Cos'è L'affioramento Ma chi l'ha creata Sta mappa Un pazzo E io gli ho dato Anche gli 11 robux Per sostenere Gli sviluppatori Vedi che è diventato il monte Everest Di nuovo Ora che siamo a piedi Soli nelle sterpaglie Del deserto In mezzo a campi minati Ricordami i tempi In cui era una rampa Dove scendevi veloce Adesso Eccola Bello questo Vero Vai Questo secondo me La regge Guarda Guarda Sì Vedi la differenza Guarda quanto siamo veloci In relazione Ma ti sembra che mi sto gasando Per un'auto nuova Su Roblox Ecco Ecco qua Un albero Che ha Sì ma perché questi rami Verso il basso Hanno la fisica Non si sa come E il veicolo viene bloccato No guarda questo ramp La prendo una Vai Sium Fere Aiuto Un po' i blaze Aiuto Si calmi Auto Perché sta andando da solo L'ho cancellata Perché sta andando da solo Signora Perché Ci sono i fantasmi Che possono Questi sono i fantasmi Dei giocatori morti Durante la rampa Esatto Io sto malissimo No scusami ora No Devo rampizzare qua Sì Giusto Sì devi prendere velocità E no ma si blocca Perché sei lento È molto pericoloso Sai che stiamo rischiando Di perdere qua vero Sì Ok Dai non si può però Siamo andati molto avanti Prendiamo la rincorsa Non ci torneremo mai più Eh lo so Ok Siamo belli veloci Però io sono fiduciosa Ok Vado Vai Vai Sium No Ok Tutto a posto Vai 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 Meno male Abbiamo il veicolo acquatico Ahia Mamma mia Era meno peggio del previsto Per fortuna Cosa c'è qua sotto Non lo so Non lo voglio sapere L'abbiamo finita Abbiamo finita la mappa L'abbiamo finita Abbiamo finita la mappa Oppure Stiamo per atterrare No secondo me L'abbiamo finita Guarda quanto stiamo andando Sì Ma hai visto quanto stiamo andando giù Sì Cioè se ti guardi Capito Dal basso verso l'alto Vedi quanto è lontana la rampa Em Aspetta aspetta Voglio vedere che è successo Niente è finita È il finale più strano che abbia mai visto Siamo morti Siamo di nuovo qui Non ho capito Però è stato bello Sì Grandi emozioni Ok Ma perché Perché è finita la mappa Non hanno fatto la fine Ma fammi la fine E probabilmente hanno pensato a qualche possibile espansione Non l'hanno lasciata Mi va molto bene Fammi la fine Aspetta è come le serie tv quando hanno il finale aperto Noi abbiamo il finale di rampa aperto Capisci Testa cosa Per un eventuale nuovo DLC Voglio scoprire Sali un attimo Se possiamo investire i target No No Ok questi sono da sparare Perché ci sono i robux per sparare Allora Cioè puoi comprare la pistola Aspetta Aspetta fermo No 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 un attimo Un attimo Cosa abbiamo a fianco Cos'è quel posto Secondo me è la fine della mappa Perché gira in tondo Capito No Eh dici che è la parte 2 No Steph Ma lo vedi che non ha forma Secondo me sono gli sviluppatori Che si sono dimenticati qualcosa Sicuro Dici Guardala bene Non ha forma No ma prima io vedevo proprio una strada eh Allora c'è la strada Che però non ha né inizio né fine E poi ci sono tutti pezzi buttati così a caso Comunque Quest'auto è veramente veloce Molto divertente fare la prima parte Sali Vai Allora facciamo giusto questo pezzetto Perché Cioè guardate quanto si va veloci Però sono fiera di noi L'abbiamo finito E non ci pensavo Non ci credevo io eh Né chi va Né chi va Era totalmente impossibile Vedi quello è barilozzo È la mappa più strana che abbiamo mai giocato comunque Però per quello è divertente Ogni tattro mesi lo diciamo su Roblox eh Vabbè perché la gente qui è molto creativa Ecco Ecco ma si va veloce Sium Bellissimo Nel bene e nel male della cotta Bellissimo Bellissimo Prego faccia esplodere Sarebbe bellissimo Un finale esplodivo Sapevo che ne valeva la pena Ok Allora Fai a zero personaggio Ok Perché io non vorrei Che ci sia la seconda strada Che ci volevano in realtà Eccoci In realtà nascondere E però noi li abbiamo scoperti Sali È quello che ti dicevo io Sali Sali Cioè ci sono cose strane Guarda non è che noi dobbiamo andare di qua Ma non è finita qui signori E che cos'è questa cosa? Non lo so Si può andare E noi andiamo Finché non ci blocca Allora non ci sta pagando Ma Per È bellissimo Tanto non ci sta pagando Cosa abbiamo scoperto? Non lo so Che cos'è questa foto? È una ruota Te ne sei reso conto? Oh no Vedi che C'era qualcosa di sensato Te lo dicevo che era una strada io No però l'altra secondo me era buttata lì Perché non ha un collegamento A meno che non me lo caricasse Perché magari ne vedevo la metà È quella È la stessa zona Vediamo Però non ci paga Vedi Stef magari è un segreto incredibile Sì vabbè Cos'ha di incredibile Ma scusami Allora se non ti paga Eh Perché creare questa zona? Non lo so perché magari è un esperimento Io ti dico Stef Alla fine di questa rampa Verrai hackerato Conto in banca compreso Ok E ti vengono a prendere a casa Ok Roba del genere Perché è troppo strano Guarda vedi che hanno iniziato a mettere anche gli ostacoli? Sì Forse la stanno ancora preparando E si sono dimenticati di chiuderla Oppure hanno detto La lasciamo qua Guarda ci sono anche le mine Mannaggia Non sto capendo So solo che Secondo me è work in progress L'abbiamo finita? L'abbiamo finita L'abbiamo finita anche la work in progress Te l'ho detto che ci sono cose strane Che non hanno l'inizio e le fine Ci fermiamo così Siate confusi quanto noi Ciao Ciao Ciao